E adesso andiamo alla scoperta di Roma, ma anche della Cina. Karma B, che cosa ne pensate di questo abbinamento? Roma, Cina? Ah, bene. Quindi andremo a visitare Piazza Vittorio? Beh, non è detto che non andremo anche a Piazza Vittorio, perché abbiamo una guida esclusiva che conosce benissimo Roma, ma anche la Cina, in tutti i modi. Guardate un po' chi è. Che cosa vuoi fare a Roma oppure in Cina? Ammirare bellezze straordinarie e nascoste? Pranzare, cenare o fare colazione in un posto speciale? Concederti un momento di relax in una cornice indimenticabile dopo ore di camminata? Fare shopping in negozi particolarissimi nei quali trovare cose uniche? Chiedilo ad Anna Scrigni. Cercalo sul suo Monimo Blog, nata a Trieste, ma ormai romana di Roma, dove si è trasferita nel 2010 per amore. Blogger, Instagramer, mamma, urban explorer, dopo anni di lavoro come producer nel cinema. Ad Anna Scrigni piace scoprire luoghi nuovi, fare foto e raccontare i segreti delle città in cui si trova in giro per il mondo. Segni particolari, ama l'arte, l'architettura, la street art, la fotografia e ovviamente cerca di viaggiare il più possibile. La sua citazione preferita? La prossima destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. Firmato Harry Miller. E Anna Scrigni è qui con noi questa sera, buonasera, bentrovata. Ciao, buonasera a voi. Vicino a te c'è Giulia Caruso, che ormai i nostri telespettatori e telespettatrici conoscono, è la nostra project manager della cultura dell'arte contemporanea. Adesso sarà il tuo momento, Giulia, quindi capiremo tutto, proprio tutto, di quello che fai. Però cominciamo con Anna, la nostra guida di fiducia alla scoperta di Roma. Ma innanzitutto voglio dire che tu non sei romana. No, assolutamente. Da dove vieni? No, io arrivo un po' da lontano, da Trieste. E come sei finita a Roma? Noi qui a Stato dell'Arte vogliamo sapere veramente tutto, siamo molto curiosi, per non dire in piccioni. No, no, siete in piccioni, va bene così. Ora ve lo racconto. Allora, io in realtà sono stata trascinata a Roma dall'amore, perché nel 2010 ho incontrato un romano doc che poi è diventato mio marito e quindi totalmente all'improvviso e senza pianificazione da un giorno all'altro mi sono trasferita a Roma. Ma tu ti sei anche inventata un lavoro, no? Sì. Perché sei una blogger, una content creator all'insegna dei viaggi. Sì, è vero. Diciamo che un lavoro è nato principalmente come una passione, come spesso accade, perché non è stato pianificato di farlo diventare un lavoro. Poi ha preso piede ed è diventato pure un lavoro. È stato un momento della mia vita in cui ero, diciamo, un po' libera, perché ero appena diventata mamma, quindi avevo del tempo a disposizione che, insomma, dire che ero libera era relativo, però nonostante avessi un neonato con me, non ho rinunciato a voler vedere tutto quello che avevo attorno a me, a Roma e anche nel mondo facendo i viaggi. E da questo poi è nata anche la necessità di raccontarlo. All'inizio con un po' di titubanza, dico la verità, perché non ero molto abituata a farlo, però invece poi dopo è diventata una cosa molto divertente. Karma B, voi siete siciliane di origine, ma possiamo dire romani di adozione? Assolutamente sì. 30 anni che viviamo a Roma, per cui diciamo che Roma è entrata nel nostro sangue ormai, certo. Siamo sicuro romani. Della piramide Cestia. Allora, che se sposti un lato della piramide Cestia... Non lo tieni un quadrato. Questo era il blocco precedente. Non lo tieniamo un quadrato. Va bene, abbiamo capito che c'è bisogno di un aiuto e quindi lo chiediamo ad Anna Scrigni, anzi lo vediamo in questo servizio. Guardate un po'. Lo sai che Roma c'è una piramide? Oggi ti porto a scoprire che cosa c'è al suo interno. La piramide Cestia è alta 36 metri e viene costruita tra il 18 e il 12 avanti Cristo come monumento funebre di Caio Cestio. Si entra ad una piccola apertura molto bassa e dopo un breve corridoio dove bisogna camminare accucciati e si arriva alla camera sepolcrale. Una stanza piuttosto piccola dipinta di bianco e decorata con affreschi di vittorie alate e altri elementi ornamentali. Questo è il buco che fu fatto nel Medioevo per entrare all'interno della piramide, ma all'epoca la camera fu trovata già vuota. Gli altri buchi che vedete furono praticati per cercare altre stanze. Anna, che cosa ti ha colpita della piramide Cestia? Allora, diciamo che è un luogo talmente inaccessibile che finalmente poterci entrare dopo tanti anni di vita a Roma è stato pazzesco, posso dire. Quindi è stata un'esperienza particolare anche perché possiamo dire che è l'unica piramide che abbiamo a Roma, in Italia, in Europa. Non è che ci capita così spesso di entrare all'interno di una piramide. Nonostante questo, poi entrarci è quasi un po' deludente perché all'interno non è che ci sia granché. Però è comunque bello poter dire finalmente, dopo tanto tempo, sono entrata dentro la piramide Cestia e so che cosa c'è lì dentro. Qual è il tuo luogo del cuore a Roma? Questa è una domanda che mi mette molto in difficoltà perché ce ne sono veramente tantissimi. Però c'è un luogo dove mi piace tornare spesso che è l'ortobotanico perché è un posto inaspettato perché tu sei nel centro di Roma, sei a Trastevero, uno dei quartieri più conosciuti e frequentati. Anche più turistici. Anche più turistici, esatto. E da lì entri all'interno dell'ortobotanico e ti immergi in questa natura rigogliosa fra foreste di bambù, foreste mediterranee, palme e quindi un posto veramente speciale. E adesso con Anna Scrigni vogliamo andare alla scoperta di cinque luoghi poco conosciuti di Roma. Guardate. Cinque luoghi che forse non conosci a Roma. Lo sai che il fontanone nasconde un giardino segreto? L'accesso si trova sul lato destro della fontana. All'interno non c'è gran che da vedere solo un piccolo giardinetto ma stare dall'altra parte del fontanone fa un certo effetto. L'ingresso è solo su prenotazione. A pochi passi dalla fontana di Trevi c'è la città dell'acqua. Più precisamente si chiama Vichius Caprarius ed è un'area archeologica che si trova a 9 metri di profondità proprio sotto il piano di un bar dove puoi vedere i resti di un complesso edilizio antico che risale al 64 d.C. L'ingresso costa 4 euro. Vicino al Belvedere del Gianicolo si trova Villa Lante una villa rinascimentale oggi sede dell'Istituto Finlandese a Roma. Si possono visitare due sale del palazzo ma la cosa eccezionale è la loggia con una vista incredibile su Roma. L'ingresso è gratuito e solo su prenotazione. In mezzo al traffico di Corso Vittorio Emanuele si nasconde il Museo Barracco un piccolo museo di scultura antica che racchiude una collezione di arte egizia, assira, etrusca e greca. Un luogo totalmente inaspettato in mezzo al caos cittadino che tra l'altro puoi visitare gratuitamente. Accanto alla scalinata di Piazza di Spagna si trova un altro piccolo museo dedicato a due poeti britannici romantici. E' la Kids and Shelley House dove John Keats visse e morì nel 1821. Al suo interno si trova una vasta biblioteca di libri romantici e sul retro c'è un piccolissimo terrazzo con un affaccio davvero spettacolare. Anna, qual è la tua giornata tipo? Allora, la mia giornata tipo è molto varia in realtà potrei dire che... Tu sei una mamma? Io sono anche una mamma tra le altre cose. Beh, la mamma è a tempo pieno per questo ho detto tu sei una mamma ma poi tu per resto... C'è anche un papà fortunatamente diciamolo. Che fa la sua parte immagina che fa la sua parte, assolutamente. Fortunatamente ci sono anche i nonni che fanno la loro parte. Comunque, la mia giornata tipo appunto è molto varia. Ci sono momenti nei quali... giorni nei quali io semplicemente esco e vado a scoprire i luoghi di cui poi voglio parlare. Giorni in cui esco senza una meta e vado ad esplorare alla ricerca di posti nuovi. Altre volte invece devo fare dei contenuti che mi vengono commissionati quindi ho dei compiti ben precisi e poi invece sono giornate che passo a casa davanti al computer a scrivere, a editare foto a editare video quindi insomma mi giostro fra queste cose. Tu hai una community di oltre 85.000 follower quali sono gli argomenti più gettonati dalla tua community? Beh, le persone che mi seguono lo fanno principalmente perché sanno di trovare cose particolari da fare a Roma quindi sicuramente i contenuti che poi funzionano di più sono quelli nei quali faccio scoprire posti poco conosciuti. Allo stesso tempo però mi piace anche tanto... Roma interessa sempre Roma interessa sempre possiamo dirlo, esatto. Questa è una fortuna per me che ci vivo. Però mi piace anche cercare di far scoprire le persone le cose che si possono fare quotidianamente a Roma e quindi sono contenuti rivolti anche proprio ai romani che vivono la città e infatti parlo molto anche degli eventi dei festival delle mostre dei mercati mercatini in modo proprio da dare qualcosa di concreto alle persone che ci vivono tutti i giorni. Giulia tu sei una millennial come scegli le tue destinazioni? i luoghi dove passare del tempo da visitare da scoprire per esempio consulti i blog i social come quelli della nostra Anna? Sì sì mi capita anche di consultare i social diciamo scelgo un po' tanto per passaparola come penso tutti sai amici e amiche che ti consigliano dei luoghi un po' tramite i social anche Anna le dicevo prima che effettivamente la seguo da diverso tempo quindi la conoscevo già prima dello stato dell'arte e poi ma ogni tanto mi capita anche di andare su internet sai quelle pagine in cui dici cosa posso fare a Roma questo weekend quindi un po' queste forse sono i modi le tue fonti le tue fonti Karma B per voi una domanda difficilissima ora sempre a noi eh sì ma perché voi siete siete sapienti no come non ve l'avevano detto mi hanno detto che interrogavano l'avamo preparate sul risorgimento adesso vediamo allora vi piace il caffè? ma moltissimo io sono veramente addicted ma più che altro al rito io lo faccio con la macchinetta aspetto che esca il profumo il gorgoglio beh la porta anche dietro la macchinetta ovunque andiamo in torne però nei luoghi che adesso vi racconteremo è meglio che non la portiate questa macchinetta ora scoprirete perché ancora Anna Scrini ha la ricerca di caffè artistici tre posti dove bere un caffè se ami l'arte uno caffè Canova Tadolini a via del Babuino si trova un caffè immerso in un museo si tratta dell'atelier che fu dell'allievo di Canova Adamo Tadolini in cui i due dal 1818 lavorarono a stretto contatto oggi il caffè ospita circa 400 opere ed è un luogo dove bere un caffè immersi in un'atmosfera particolare e suggestiva 2. la caffetteria del Chiostro del Bramante al primo piano del Chiostro del Bramante c'è una particolare caffetteria qui vi potete letteralmente immergere in un'opera d'arte nella sala è stata infatti installata un'opera site specific del duo Fallen Fruit i dettagli fotografici di quest'opera sono stati estrapolati da realtà locale della città e mentre fate colazione vi potete perdere a studiarli tutti ma la meraviglia non finisce qui la finestra della caffetteria faccia sull'interno della chiesa di Santa Maria della Pace e da qui potete ammirare la fresco delle Sibille di Raffaello 3. antico caffè greco siamo nel più antico caffè di Roma aperto nel 1760 a Via dei Condotti al suo interno c'è una collezione di 300 opere esposte alle pareti e questo fu anche il luogo d'incontro di intellettuali e artisti insomma un luogo denso di fascino dove si respira un'atmosfera ad altri tempi bere un caffè qui non sarà molto economico ma equivale a fare una visita in un museo raccontami in quale di questi caffè ti piacerebbe fare colazione Anna questa sera ci ha voluto portare anche un altro regalo una vera e propria anteprima per stato dell'arte di cosa si tratta Anna? si tratta di un altro figlio possiamo dire ma guarda lo puoi proprio chiamare così neonato sta per nascere pochi giorni ancora è stato veramente un parto si tratta del mio libro eccolo qui questa è la copertina ringraziamo anche l'editore per questa anteprima assolutamente Sam Libri che appunto è l'editore del libro Roma come vuoi è un libro che parla di Roma e di tutti i modi particolari in cui si può scoprire ed esplorare Roma in una maniera non convenzionale non mi piace chiamarla guida perché quando si dice guida viene subito in mente quel libro che vai a comprare quando devi andare in un posto per la prima volta e ancora non lo conosci vuoi conoscere tutte le cose più diciamo famose e turistiche invece questo è proprio l'opposto ti vuole portare a vedere cose non turistiche non solo culturali questo va specificato perché c'è una sezione dedicata ai ristoranti ai caffè alle pasticcerie ci sono i negozi tutti i negozi particolari di artigianato dove si possono comprare cose strane diverse dal solito c'è anche una sezione se vogliamo naturalistica perché Roma è piena di parchi i giardini segreti e poi ovviamente consigli su cosa fare con i bambini per quando è fissata la prima presentazione? il 19 marzo ci sarà la presentazione alla Feltrinelli di Largo Argentina alle 18.30 quindi siamo nel cuore di Roma sì assolutamente nel cuore di Roma allora questa sera abbiamo parlato di parole dell'importanza delle parole anche tutti soffermi su delle parole decisamente romane no? dei modi di dire per esempio quali sono i consigli che dai sullo slang romano sullo slang romano per chi non è romano di Roma diciamo che arrivando da Trieste l'impatto all'inizio è stato un po' difficile ma divertente devo dire io all'inizio quando dovevo andare a comprare il pane dicevo a mio marito vado in panetteria e mio marito mi diceva scusa dove che vai? al forno forse volevi dire e poi al forno volevo comprare la focaccia ma la focaccia a Roma non è proprio contemplata non è città la focaccia no c'è la pizza bianca che tra l'altro è diventata la base della mia alimentazione e poi tu hai scritto se andate al supermercato quando siete alla cassa chiedete una busta non un sacchetto o una borsa no una borsa io a Trieste alla cassa al supermercato chiedo una borsa posso avere una borsa per cortesia qui a Roma ti guardano pensano sì non so le prime volte era un po' strano e poi c'è un altro consiglio regia apri il microfono perché mi servirà il tuo slang anche ora allora infine scrive Anna se qualcuno che non conoscete cerca di attirare la vostra attenzione urlandovi aò come si dice regia fammi sentire da un romano di Roma da queste voce di Cesare aò ecco con la mano accanto alla bocca per farsi sentire meglio sappiate che è assolutamente normale a Roma vero Anna? ma sì assolutamente perché tu ti sei sorpresa di questo arrivando a Roma? beh diciamo che all'inizio è una cosa insomma abbastanza buffa abbastanza divertente lo dico in maniera positiva questo tipico modo di richiamare l'attenzione no? che a Trieste non si userebbe mai per esempio sono senti molto più forbiti molto Karma B il vostro luogo del cuore a Roma beh sicuramente da oggi lo studio di stato dell'arte non vedo altri luoghi del cuore possibili siamo nella magnifica area di Bocce ambia Don Carlo Gnocchi 3 lo dico a questo punto ce ne sono tanti a me piace da morire l'idea che tu a Roma possa scegliere di fare il cittadino e anche il turista a un certo punto scegliere di fare un giorno il turista personalmente a me piace molto Coppedè la piazza proprio la zona Coppedè perché mi sembra di stare in un luogo fuori dal tempo quindi quello è uno dei miei posti preferiti a Roma siete state mai in Oriente? sì dove? a Macao e Hong Kong e poi l'India e l'India però dovete sapere che c'è tanto Oriente anche a Roma vero Anna? assolutamente e allora scopriamolo proprio insieme ad Anna guardate sei cose da fare a Roma per sentirsi in Giappone l'ultima è incredibile uno visitare l'istituto di cultura giapponese qui puoi ammirare l'architettura giapponese passeggiare in un giardino molto suggestivo e visitare mostre a tema 2 pranzare da Maido locale che si trova a Monti dove puoi mangiare il tipico street food della città di Osaka ovvero l'okonomiyaki e assaggiare altri piatti tipici giapponesi in compagnia di alcuni personaggi dei cartoni animati del passato 3 fare una passeggiata nel giardino giapponese dell'orto botanico il bellissimo orto botanico di Roma che si trova a Trastevere ospita anche un piccolo giardino giapponese con ruscelli alberi di ciliegio e una pagoda 4 fare una passeggiata lungo il viale dei ciliegi all'Eur un altro posto dove immergesi nell'atmosfera giapponese a Roma è il parco dell'Eur dove ad aprile puoi ammirare la Nami 5 fare merenda dai Romy Cake laboratorio di pasticceria giapponese che si trova nel quartiere Prati dove provare prelibati dolci tradizionali ma anche rivisitazioni contemporanee dai sapori sorprendenti 6 cenare da koaku tradizione e materie prime di altissima qualità in questo ristorante che propone una cucina tradizionale giapponese kaiseki qui si può fare un percorso di degustazione al bar accompagnati dallo chef che prepara i piatti davanti ai vostri occhi io ho assaggiato per la prima volta nella vita la medusa piatto che mi ha sorpreso tantissimo e durante tutta la cena sono rimasta super affascinata dalla preparazione dei piatti Anna che cosa ti appassiona dell'Oriente? ma sai l'Oriente è una cultura talmente diversa dalla nostra che per forza di cose incuriosisce poi io devo essere sincera sono curiosa di mio quindi mi incuriosisce qualsiasi tipo di cultura se tu mi proponi di fare un viaggio è difficile che io ti dica di no a meno che non sia un posto dove sono già stata poi l'Oriente anche da un punto di vista estetico è molto attraente io amo l'architettura per esempio l'architettura giapponese orientale in generale mi attrae tantissimo e la Cina? e la Cina la Cina ci sono stata e allora vediamo come l'hai raccontata guardate ho già iniziato alle la Cina si pare Anna, qual è la cosa più bizzarra nella quale ti sei imbattuta in viaggio? Allora, devo dire che ne ho viste veramente tante perché siamo in un mondo veramente completamente diverso dal nostro io ho visitato una parte della Cina poco conosciuta, poco turistica che è la zona dello Sichuan e tu pensa che in due settimane che sono stata lì non ho mai visto una persona occidentale e le persone, capitava spesso che mi guardassero con molta curiosità mi addirittura è successo che qualcuno mi fermasse per chiedermi di farsi delle foto assieme a me è un'attrazione turistica infatti, quindi se ti vuoi sentire un po' VIP sai che devi andare a fare un viaggio in Sichuan, esatto poi, vabbè, altre cose particolari quando vai a mangiare al ristorante ti servono solo acqua calda non esiste la bottiglia d'acqua fredda come da noi oppure il tè e poi dal punto di vista tecnologico sono molto avanti quindi nonostante ci siano tantissime tradizioni che vengono ancora mantenute per esempio non utilizzano i contanti c'è un metodo di pagamento che si basa solo e esclusivamente sulle app quindi tu paghi solo col telefono quindi io mi sono ritrovata dispersa in mezzo ai monti a 4600 metri d'altitudine e c'era un baracchino che vendeva patate bollite e dovevi pagare con un'app e dovevi pagare con un'app ma pensate, non l'avrei mai detto esatto, c'era un cartello con il QR code da cui ti potevi collegare al wifi a 4600 metri d'altitudine e dovevi pagare con l'app il piatto tipico che hai odiato non c'è un piatto tipico che ho odiato ti dico la verità per me la scoperta della cucina cinese è stata incredibile perché è molto diversa da quello che noi pensiamo soprattutto anche nella regione dove sono stata dove non c'è la tipica cucina cantonese e ci sono tantissime verdure molto strane che tra l'altro poi sono andata anche a ricercare a Roma al mercato di Piazza Vittoria esatto le nostre karma b alla fine ci siamo arrivati torna sempre tutto torna sempre anche Piazza Vittoria noi andiamo più nel reparto stoffe e tessuti però anche per l'altro mercato c'è una botteguccia cinese all'interno del mercato che vende cose particolari e poi vabbè ovviamente si mangiano anche cose strane tipo le zampe di gallina le code di maiale cose che appunto magari a cui noi non siamo molto abituati però io quando viaggio cerco di essere molto aperta la medusa com'è? la medusa è sorprendente te lo dico molto meno vicida di quello che tu possa pensare anzi era un po' croccante addirittura dipende dal tipo di cottura secondo me c'è l'impanatura sulla medusa ma è meglio non approfondire anche perché poi è urticante Giulia tu sei una project manager della cultura dell'arte che cosa vuol dire? cosa fai esattamente? allora io mi occupo di organizzazione di mostre ed eventi d'arte contemporanea nello specifico e ho lavorato non so se insomma diversi anni al museo macro qua a Roma è il museo d'arte contemporanea di Roma il museo d'arte contemporanea della città di Roma e diciamo in parallelo poi io ho anche un'associazione culturale che ha sede a Catania quindi comunque perché tu sei catanese etnea quindi hai un vulcano dentro questo non possiamo dire allora noi abbiamo il tuo progetto via raffineria cominciamo a vedere delle immagini regia che cosa ti sei inventata il posto è molto affascinante innanzitutto è un ex magazzino di ricambi auto che si trova nella zona delle ciminiere che era la vecchia zona industriale della città poi crescendo la città chiaramente la zona industriale si è spostata e con Maria Vittoria Di Sabatino che è la mia socia storica dell'arte anche lei producer project manager fenomenale nel 2019 abbiamo fondato via raffineria e appunto è un'associazione culturale da qualche anno dal 2022 e ci occupiamo appunto di eventi mostre d'arte contemporanea ricerca residenze vi date da fare che cos'è la macchina Amleto abbiamo anche delle immagini di questo progetto sì la macchina Amleto è l'ultimo progetto che abbiamo presentato il 20 gennaio 2024 appunto a Catania e diciamo abbiamo collaborato che cosa vi siete inventate abbiamo collaborato con questo gruppo di di ragazzi attori performer musicisti che si chiamano Desperate House Wifus diciamo dal non casalinghe c'è un gioco di parole non sono casalinghe disperate non sono casalinghe disperate è un collettivo di artisti gli artisti sono un po' disperati in Italia e questo va detto cosa fa questo collettivo loro fanno teatro sperimentale loro fanno teatro sperimentale quindi diciamo ci hanno in realtà proposto di presentare la macchina Amleto che è questa opera concertistica che hanno ideato durante il covid e che hanno portato e stanno portando un po' in giro per l'Italia sono venuti anche a Roma sono stati a Napoli insomma stanno un po' girando in Italia e abbiamo inaugurato la diciamo stagione 2024 proprio con loro tra l'altro sono tutti artisti e artiste perché in realtà dietro le quinte c'è anche una ragazza catanesi e noi abbiamo pensato di diciamo chiamare anche un altro artista che si chiama Angelo Ricciardello di Catania che in realtà vive a Venezia a un po' entrare in dialogo con loro quindi in alcune immagini si vedono degli interventi come vi erano per esempio prima come delle zampettine per terra lui ha fatto vari interventi nello spazio di Via Raffineria diciamo entrando un po' in dialogo in maniera molto delicata e molto anche poetica con quella che poi è l'opera che hanno presentato il collettivo i ragazzi noi abbiamo anche delle immagini di Tulipano Rosso sì in questo caso che cosa avete combinato? allora in questo caso è stato un progetto che abbiamo presentato in occasione di Art Verona del 2022 quindi parliamo di una grande fiera d'arte contemporanea esatto che tra l'altro noi abbiamo visitato come stato dell'arte devo dire sì noi siamo state invitate da Giulia Floris che è la curatrice della sezione Lab una sezione dedicata agli spazi indipendenti italiani siamo state invitate nel 2022 e abbiamo deciso di collaborare con Replica che sono due curatrici critiche Lise Andreani e Simona Squadrito e presentando un progetto sull'antigruppo siciliano che erano questo gruppo di diciamo poeti un po' pazzerelli molto politici anche in qualche modo avevano degli argomenti molto politici alcuni erano anche molto arrabbiati in qualche modo che hanno operato tra le fine degli anni 60 e gli anni 80 e abbiamo portato quindi diciamo un approfondimento su di loro e le poesie che si vedono scritte sul muro sono state scritte da Giuseppe De Mattia che è un artista è un artista emergente italiano un sogno nel cassetto che vorresti produrre un sogno nel cassetto oh mamma non sono preparata a questa domanda allora mi risponderai quando tornerai a trovarci l'invito male anche ovviamente per le karma grazie per la vostra professionalità e la vostra generosità grazie a voi è stato veramente bello grazie ad Anna Scrini naturalmente le porte di Stato dell'Arte sono aperte anche per te grazie a tutti voi a tutti voi che ci avete scelto e seguito ancora una volta noi ci vediamo puntualmente giovedì prossimo sempre in prima serata alle 21.30 qui e solo qui sul canale 122 del Digitale Terrestre su Cusano Italia TV e ricordatevi che ci potete vedere sul nostro canale YouTube ma ci potete anche ascoltare su Spotify naturalmente alla voce Cusano Italia TV Stato dell'Arte ed ora il mio pensiero della buonanotte per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole il punto G è nelle loro orecchie chi lo cerca più in basso sta soltanto perdendo tempo firmato Isabella Yend alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.